Non si ferma la macchina della solidarietà per raccogliere aiuti ed ospitare chi sta scappando dalla guerra. Ad oggi sono circa 200 i profughi presenti nella provincia di Pesare Urbino, di cui 52 a Fano, suddivisi tra Villa San Biagio, Opera Donorione e le abitazioni private. Quasi la metà dei rifugiati, 25 in totale, sono minorenni. Questi numeri però sono destinati ad aumentare, così come quello delle persone pronte ad accogliere il popolo ucraino. L'ambito sociale 6, in base ai dati registrati stamattina, ha raccolto 60 disponibilità di vitto e alloggio che vanno ad aggiungersi a quelle di enti del terzo settore, come Caritas e Opera Padre Pio. Altre offerte invece riguardano donazioni di materiale vario e servizi di inclusione sociale e sostegno psicologico. Credo che sia già un segnale importante. Cerchiamo di convogliare, di coordinare con gli enti del terzo settore tutta questa generosità, questo spirito di solidarietà che la nostra comunità sta dimostrando. Lo stiamo facendo, domani avremo un tavolo, il tavolo dell'immigrazione, cercando di mettere insieme tutti gli enti del terzo settore che su questo sono attivi e operativi tramite un accordo di collaborazione e poi un patto di sussiderietà in cui sarà precisato ciò che fa ognuno e chiaramente anche i compiti, servizi, interventi che metteremo a disposizione soprattutto perché si tratta comunque di famiglie, di nuclei familiari in cui sono presenti anche dei minori, quindi con servizi di inclusione, interventi linguistici, di aggregazione e quant'altro. Ecco, il cuore, il grande cuore di questa comunità cerchiamo di unirlo alla testa e quindi a un coordinamento, a un'organizzazione che dia interventi e servizi efficaci di accoglienza che possa davvero essere funzionale per coloro che vengono qua dopo essere usciti da una tragedia come quella che vediamo tutti i giorni in televisione.